Ciao a tutti, visto che siete stati molti a richiedermelo, oggi vedremo come comportarsi quando il cucciolo morde insistentemente mani e piedi. Ho pensato di fare due video su questo argomento in modo da affrontare diversi tipi di intervento a seconda della motivazione per cui il cane si comporta in questo modo. Uno dei motivi per cui il cucciolo morde mani e piedi è quello di attirare la nostra attenzione piuttosto che farlo per gioco anche se in una modalità errata. Probabilmente in un modo o nell'altro è stato da noi rinforzato questo comportamento anche involontariamente. Faccio un esempio, noi siamo concentrati a studiare, a lavorare, il cucciolo arriva e ci morde i piedi piuttosto che poi passa ai pantaloni e noi per forza di cose gli diamo retta anche solo per dirgli di no, ma è sempre meglio per il cucciolo che essere ignorato. Magari invece non riusciamo a essere così rigidi e ci viene da ridere, piuttosto che cominciamo a spostarlo, allora lui ci morde le mani e noi un pochettino ci giochiamo visto che comunque non stringe forte. Quindi rinforziamo questo suo comportamento e il cane capisce che ci stiamo magari anche divertendo, probabilmente non sempre ci divertiamo, ma basta che sia qualche volta che ottiene quello che vuole e questo gli fa capire che quel comportamento funziona. A volte siamo noi a proporgli il gioco in modo sbagliato, ovvero gli porgiamo la mano, gliela facciamo mordicchiare, solo che il cucciolo capisce così che questo è un comportamento accettato e anche divertente. Quindi finché riesce a controllarsi riesce anche a farlo piano, quando invece è troppo agitato o troppo eccitato non riesce a controllare il morso e comincia a chiudere e a fare più male. In realtà il cucciolo apprende che questa è una modalità corretta di interazione perché è consentita e a volte anche proposta da noi e quindi lo metterà in atto quando più gli aggrada, quando vuole che funzioni e diventa una modalità di interazione anche con gli estranei. Qual è quindi l'atteggiamento corretto che dobbiamo assumere per ridurre questo comportamento indesiderato? Dobbiamo interrompere immediatamente ogni interazione quando il cucciolo comincia a mordere. Quindi se stavamo giocando smetteremo di giocare, se lo stavamo coccolando smetteremo di fare le coccole. Se lui dovesse andare avanti possiamo anche alzarci e andare via. Se lui dovesse seguirci mordendoci ancora le scarpe o i vestiti possiamo anche chiuderci in una stanza e lasciarlo fuori. In poco tempo il cucciolo capirà che quel metodo che lui prima utilizzava per ottenere le nostre attenzioni non funziona più perché non ci si diverte più insieme se lui comincia a mordere, anzi ottiene esattamente il risultato opposto. Tutto il divertimento finisce istantaneamente. È anche importante fare chiarezza su cosa il cucciolo può utilizzare come gioco e cosa no. Il cucciolo può mordere tranquillamente tutti i suoi giocattoli e dobbiamo insegnarli a preferirli rispetto ai nostri vestiti piuttosto che alle ciabatte. E non dobbiamo fare l'errore di lasciargli le ciabatte o le scarpe vecchie da mordichiare perché per lui non fa nessuna differenza tra una scarpa vecchia e una scarpa nuova di Prada. Ancora è importantissimo premiare i comportamenti corretti. Non basta dire al cane cosa non deve fare ma bisogna anche sottolineare cosa invece va bene. Quindi quando vediamo il cane tranquillo, sereno, che gioca in un modo corretto possiamo continuare il gioco, premiarlo e gratificarlo. Ricapitolando, i morsi dei cuccioli ci mettono spesso duramente alla prova ma noi dobbiamo essere più tenaci e in questo modo riusciremo a giocare divertendoci entrambi senza farci male. Al prossimo video, ciao!